Buongiorno a tutti. Benvenuti e benvenute. San Marcellino, Università di Genova e Palazzo Ducale organizzano l'incontro La povertà in Italia con la professoressa Saraceno che ringraziamo della sua presenza, non per la prima volta. Passo subito la parola a Nicola Agai, presidente di San Marcellino, per i saluti. Grazie. Buongiorno a tutti. Non c'è mai una riflessione strutturata, multidimensionale, come è scritto già fin dall'introduzione nel libro di Chiara Saraceno, che ringraziamo ancora una volta per aver accettato subito, appena l'abbiamo chiamata, aver dato la disponibilità a venire. Noi appunto quando abbiamo visto questo tema, occupandoci a San Marcellino di persone che sono senza dimora, quindi di una povertà estrema, che sono segno di una povertà molto più diffusa, forse meno estrema, ma certamente molto ampia. Abbiamo pensato subito di organizzare questo incontro, servendoci anche dell'accordo quadro fatto ormai, se non sbaglio cinque anni fa, con l'Università di Genova, che di fatto stiamo riempiendo sempre più di occasioni che sono un po' gli elementi, le tessere di un puzzle sempre più articolato. E allora ci faceva molto piacere proprio sottolineare questo approccio multidisciplinare, perché la povertà è una cosa molto articolata. Non è soltanto il problema della mancanza di lavoro, non è soltanto il fatto del lavoro povero, basta pensare ai rider, tutte queste cose, non è soltanto un problema legato al reddito di cittadinanza o no, poi il reddito di cittadinanza è una situazione molto confusa, che voleva anche intervenire per aiutare le persone a trovare il lavoro, ma sono due cose che non stanno molto bene assieme, ci sono la dispersione scolastica, ci sono molti altri elementi che concorrono a creare delle situazioni di povertà che non è facile affrontare se non appunto in un contesto più ampio. Il welfare sempre più spezzettato, spesso affidato alle famiglie, anche la diversità che c'è fra il nord e il sud, per esempio a proposito degli asili e di altre istituzioni che rendono possibile il lavoro, fa sì che anche per esempio il lavoro per le donne, la percentuale delle donne che riescono a lavorare, è molto più bassa di quella che potrebbe essere. Queste sono solo alcune delle problematiche che questo libro tocca, di cui ci rendiamo conto, ma che con molta difficoltà affrontiamo, in luoghi dove appunto ci sia la possibilità di parlare, di studiare e così via. Quindi sono veramente molto contento di questo incontro, ringrazio ancora Chiara Saraceno e naturalmente anche, adesso mi scappa il nome, ma comunque lo conosco molto bene, Luca Borzani, che vediamo spesso, con cui collaboriamo con molto piacere. Lascio la parola all'Università. Grazie Nicola. Adesso la parola va alla professoressa Emanuela Batecola dell'Università di Genova. Sì, allora mi scuso perché ho pochissima voce e potrei anche mettermi a tossire mentre parlo. Sono molto contenta di essere qui a rappresentare l'Università, anche perché le autrici e l'autore, Chiara Saraceno, Morlicchio e David Benassi, sono colleghi di lunga data, persone che stimo molto, come studiose, studiosi e intellettuali. E in più, come non sempre capita nei saluti istituzionali, ho avuto anche modo di leggere il libro in tempi non sospetti e adottarlo nel mio corso di fondamenti di organizzazione e servizio sociale, perché mi sembra che sia un libro molto importante, perché offre con un linguaggio accessibile delle chiavi interpretative di lettura, non solo sul fenomeno della povertà, con dati che per me che non mi occupo di povertà sono anche per certi versi sorprendenti. Mi ha sorpreso il fatto che soprattutto ci siano tantissimi minori vittime di povertà, ma è anche un libro che offre delle chiavi interpretative per potersi orientare in alcuni dibattiti, a volte un po' scuri, a volte un po' manichei, come quello, ad esempio, sul reddito di cittadinanza. Quindi io credo che sia questa un'occasione molto importante e è anche molto bello vedere insieme intellettuali dello spessore di Chiara Salaceno e Luca Borsani, che sono due persone, per certi versi, che hanno dei punti di contatto, non ultimo il fatto che entrambi alimentano il dibattito politico e intellettuale, non solo in questa città. Allora, chiudo, prima che arrivi, la tosse si faccia sentire e soprattutto diamo voce ai protagonisti, ringraziando non solo Luca Borsani, che è stata l'anima per tanto tempo di questo palazzo ducale, ma soprattutto a Chiara Salaceno, che arriva ogni volta, la chiamiamo, nella nostra bella Genova. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Grazie a San Marcellino per l'invito. Grazie a Chiara Salaceno di essere qui, è sempre un piacere e un onore incontrarla. Tra l'altro Chiara Salaceno ha avuto una presenza costante in un'importante stagione di Palazzo Ducale. Chiara Salaceno è anche uno dei più autorevoli protagonisti sulla riflessione sulle povertà e sul contrasto alle povertà. Anche recentemente è stata presidente del Comitato Scientifico di Valutazione sul reddito di cittadinanza istituito dal governo Draghi. Comincerei però questa nostra discussione dal libro La povertà in Italia, scritto a sei mani da Chiara Salaceno, David Benassi ed Enrica Mordicchio. Ed è un libro impegnativo, scritto con grande rigore accademico. Un libro da studiare, non da leggere. Mi verrebbe da dire uno strumento di lavoro, ma che, guardate che è interessante, è andato esaurito nella sua prima edizione. Ha conferma di quanto il tema della povertà sia diventato centrale, sia pure con grande ritardo, all'interno della nostra discussione pubblica. Peraltro, e c'è una ricerca dell'Ipsos di pochi giorni fa, che ci racconta come l'impoverimento possibile sia diventata la grande paura degli italiani. Con oltre il 60% che si dichiara preoccupato di raggiungere la fine mese e un terzo che, come dire, conferma, insomma, dichiara di non essere in grado di far spese impreviste o di non essere in grado di supplire a due mesi di eventuale mancanza di stipendio. In quelli che non sono in grado di fare pronte a spese impreviste, c'è anche quel 5% di Liguri che, nello scivolamento della sanità da pubblica privata, ha rinunciato alle proprie pure. Peraltro, la povertà, nelle sue tante declinazioni, come ci ricordava Padre Gai, da tempo non rimanda più alle marginalità. Questo secondo me è un tema molto importante. Le povertà sono entrate nell'ambito della normalità come esito possibile di un'esistenza a fronte di improvvisi accidenti e disegnano un quotidiano che è largamente segnato anche da questo, da incertezze e insicurezza. Si potrebbe dire, usando un'espressione di Marco Revelli, che è uno dei tratti della modernità regressiva dentro cui siamo immersi. e continuiamo, a distanza di tre anni dalla pandemia, ad avere il picco più elevato di povertà assoluta. Continuiamo ad essere, come dire, su un record storico che coinvolge quasi due milioni di famiglie, pari a cinque e mezzo, cinque virgola sei milioni di persone, più o meno il nove virgola cinque della popolazione, di cui uno e mezzo, un e quattro, un e mezzo, poi ne parleremo, Save the Children, da dei dati ancora più drammatici, di minori. La povertà relativa, che è stata più bassa paradossalmente nei mesi della pandemia per la contrazione complessiva dei consumi, è invece ulteriormente cresciuta e oggi stringe tre milioni di famiglie. Se guardiamo le famiglie degli stranieri legalmente residenti, noi abbiamo ancora un abisso più elevato. Ci muoviamo sul 30-40% di condizione di povertà, che diventa 45-50% se è una famiglia con figli minori. Complessivamente, ci dice l'Istat, è a rischio di esclusione sociale, sono a rischio di esclusione sociale il 25% degli italiani. Pari uno su quattro, è più o meno 1,4 milioni. Ecco, non voglio affliggervi coi numeri, ma credo, come dire, che siano numeri che ci disegnano anche, in modo piuttosto evidente, la nostra crisi democratica. Non credo che possiamo non riflettere su questi in collegamento con quelli. E guardate che questi numeri sono ancora più significativi se li rapportiamo con altri, perché il 2022 è stato un anno di tanti record storici. Ad esempio, si è raggiunto il record storico dal 2005 del 60% dell'occupazione della popolazione attiva. Come dire che non solo si sono coperti i vuoti, le cadute della pandemia, ma anche quelle collegate alla crisi del 2008 e del 2011. E con una crescita del PIL con performance europea. Collegherei le due cose, no? Cioè, una stabilità nel picco assoluto delle povertà, ma anche una crescita molto elevata dell'occupazione e del valore del nostro PIL. Contemporaneamente da un altro record, il 20% dei più ricchi ha un reddito sei volte superiore al 20% dei più poveri. Un altro record europeo. Questo massimale non si raggiunge. E ancora, in termini di record, l'incidenza dei bassi salari. Dal 1990 al 2020 i salari italiani sono progressivamente diminuiti, quelli europei sono aumentati, con differenze straordinarie che andiamo dal almeno 2% al 38% in più. E ancora, abbiamo il record dei divari di genere e dei divari generazionali. E, tanto per non farci mancare qualcosa, nel 70% dei progetti approvati del PNR sono escluse le quote di occupazione delle donne e dei giovani. Come dire, forse aver imparato poco una lezione e usare poco gli strumenti che abbiamo. Ecco, il libro di Chiara Ottaviano entra nel merito di quei suoi e degli altri autori, il libro a sei mani, entra nel merito di questa complessità e disegna il regime di povertà italiani in un'ottica di lungo periodo, in una comparazione europea, sottolineandone quelle che sono le persistenze, ad esempio, primo fra tutti il meridione e le soluzioni di continuità. Cioè, in qualche modo, a me sembra prima elemento importante, la pandemia è un punto di arrivo, non è un punto di partenza. e alle spalle c'è la crisi degli anni 90, una vera e propria sostituzione quasi nel paesaggio demografico e sociale delle povertà, con uno scivolamento da quota parte degli anziani ai più giovani e con il blocco della promozione sociale e all'opposto anche della riduzione delle diseguaglianze. Se ci pensate bene, sono tre termini opposti a quello che è stato il percorso del novecento. Poi la crisi del 2008 e 2011, un breve recupero fino al 2019 e poi la caduta rispetto alla pandemia. Ecco, al centro di questo processo il libro mette giustamente il lavoro povero. Guardate, il lavoro povero sembra uno simoro, no? Se noi lo riflettiamo con i caratteri del novecento, lavoro e povertà apparivano in qualche misura i contrapposti fra di loro e ancora nella mente di molti di noi la povertà è prodotta dalla disoccupazione, dal cadere fuori, dall'essere non dentro quel recinto che appunto l'essere all'interno delle attività produttive determinava. Quando in realtà anche qui il lavoro povero è lungo nel tempo, pensate che già nel 2017 c'era il 13% di lavoro povero tra gli indici più elevati a livello europeo. E quindi il progressivo sedimentare della povertà dentro le famiglie a basso reddito, con figli o a bassa intensità di lavoro, oppure con lavoro ma che non riesce a rispondere ai bisogni complessivi della famiglia. Ecco, e questa è una delle prime sintesi. Noi non possiamo scindere le povertà dalle conseguenze di come sono state affrontate le sfide della competizione globale. E dentro questo si misurano le fragilità e le distorsioni vecchie e nuove all'interno di un sistema di protezione peraltro frammentato e sbilanciato. Cioè le povertà appaiono nel libro, così come sono, come un fenomeno strutturale e multidimensionale e in cui i caratteri dipendono dall'organizzazione delle famiglie e in molti casi per quello che è la dimensione italiana, un welfare fai da te familiare, dall'impianto appunto di un welfare concentrato su modelli e su risposte vecchie, spesso costose vecchie, da un mercato del lavoro segnato da larga parte di lavoro debole, da lavoro fragile, da lavoro non dignitoso, con un sistema di piccole e medie imprese che si fonda più sui bassi salari che sull'innovazione tecnologica. Sul ruolo sempre più debole dei sindacati, sull'assenza dei servizi di conciliazione tra lavoro di cura gratuito delle donne e quello che invece è la possibilità occupazionale. Guardate che ecco è cosa assai diversa tutto questo dall'assegnare la povertà alla sfortuna o all'incapacità dei singoli. Ecco forse questo è il primo elemento cognitivo che dovremmo acquisire quando si parla di carattere strutturale della povertà e di quanto sia come dire effetto di un concorso di cause dentro cui si misura le caratteristiche dello sviluppo del paese, delle protezioni sociali a cui ha dato vita. E quindi questo è un libro che rompe con tante troppe semplificazioni che vengono da destra come da sinistra. Anche la sinistra c'è una lunga traduzione di negazione delle povertà e disegna tutta la differenza tra il contrasto alla povertà e il contrasto ai poveri. Sono due concetti profondamente diversi. Contrastare le povertà o contrastare i poveri. Concludo prima questo primo giro e prima di lasciare la parola a Chiara Saraceno però vorrei fare un'ultima considerazione che è emersa, veniva già citato prima dal bruttissimo dibattito sul reddito di cittadinanza dove sono ricomparse anche qui antiche stigme. Il tema della moralizzazione dei poveri, dell'assegnazione della responsabilità individuale, del ricondurli all'interno di un contesto fatto di depreciamento di se stessi e di negazione di autostima. È una anche qui delle tante facce di una società fondata su sempre più individualizzate e modellata sui consumi ma è anche qualcosa che ci porta assai lontano dalla discussione che invece sarebbe doveroso e urgente fare. Nel libro viene citato e può sembrare quasi strano, il film di Sergio Leone, Buono, Brutto e Cattivo. Quasi in questa classificazione Buono, Brutto e Cattivo si contenga la rappresentazione dei poveri oggi in Italia, il povero buono che è quello, come dire, impossibilitate, incapace per età, per condizioni di disabilità a esercitare qualsivoglia attività e poi il brutto e il cattivo che sono i furbetti, quelli che cercano di garantire un'esistenza al di là del lavoro, che usufruiscono del reddito di cittadinanza come se fosse davvero il male dell'economia del nostro paese. Ecco in questa stigma ci sta molto, c'è molto del nostro vivere comune, delle nostre anche modifiche antropologiche che segnano la contemporaneità. Questo libro, adesso appunto lascio la parola a Chiara Saraceno, ci dà però un percorso che io credo che sia quello da fare, che fanno molte realtà a partire da San Marcellino, cioè che è quello di considerare la povertà non soltanto all'interno dei sistemi di prestazione, ma all'interno anche delle modalità di relazione. del considerare l'altro come persona e quindi di assumere il tema del costruire capacità, autonomia e non semplicemente di schiacciarlo dentro qualcosa come dire che viene acquisito come una beneficenza e una carità fatta perché stiamo ritornando a questo e non invece un diritto sociale garantito dalla nostra Costituzione. Grazie. Grazie, grazie di questa introduzione, grazie dell'invito e grazie a voi di essere qui così numerosi, sono commossa, è vero dopo tanto tempo che non venivo a Genova ma siete sempre molto accoglienti. due parole sulla storia di questo libro perché è una storia abbastanza curiosa. Quando con i miei amici e colleghi nel 2018 abbiamo pensato di scriverlo e non lo abbiamo pensato innanzitutto per il pubblico italiano, è stata scritta la prima versione di questo libro, che è uscita in inglese e per una lettura internazionale. La domanda da cui partivamo era come mai in Italia e anche in altri paesi europei, ma in Italia nel confronto con altri paesi europei, continuasse a persistere dopo la crisi del 2008, che fosse in aumento e che persistesse la povertà nonostante il lavoro. Come mai ci fosse stata una crescita o una ripresa occupazionale ma senza che ci fosse diminuzione della povertà. Questo era un tema che già era stato affrontato in precedenza da altri autori precedenti alla crisi del 2008, ma che poi è diventata fortissima negli anni. L'Italia era un esempio di questo paradosso. Pensate che in Italia, a seguito della crisi finanziaria del 2008, per due o tre anni sembrava che non fosse successo niente sul piano della povertà perché si usavano i risparmi, c'era la cassa integrazione per chi perdeva il lavoro, perdevano il lavoro i capi famiglia più che i giovani e le donne perché era una crisi della manifattura. Poi però ci fu un'esplosione, un grande balzo nel 2011, un balzo che poi ha continuato ad andare avanti. Cioè dal 2011 fino al 2018, in compreso, la povertà assoluta, io utilizzo questo criterio perché è meno sensibile alla congiuntura, la povertà assoluta in Italia ha continuato a crescere. Nel 2019 c'era stato un piccolissimo segnale di fermata e forse arretramento. Qualcuno diceva che era anche a causa più che dell'economia dell'introduzione nel secondo semestre del reddito di cittadinanza che è stato introdotto a settembre del 2019, primo governo, il conte 1, come si dice. Poi è arrivato il 2020 e non solo la povertà ha smesso di diminuire quel segnale sparito ma c'è stato un altro enorme balzo in avanti. Quindi noi nel 2018 stavamo cercando di capire che cosa c'era nella situazione italiana che faceva resistenza alla diminuzione della povertà nonostante un certo aumento dell'occupazione, una certa ripresa dell'occupazione. Mentre il volume stava andando alle stampe in Inghilterra, in inglese, è scoppiata la pandemia. Tant'è vero che dovremmo scrivere una prefazione dicendo perché le cose stavano cambiando. Quando poi abbiamo fatto l'edizione italiana, aggiornandola, eccetera, abbiamo dovuto tenere conto della pandemia. Quindi è nato come un libro che guardava la lunga crisi che a sua volta veniva da una lunga difficoltà dell'economia italiana e invece ci siamo trovati poi a dover in parte riscrivere su un paese tra due crisi e mentre andava in stampa stava spartendo la terza crisi che è quella della guerra in Ucraina e della crisi energetica con le conseguenze inflazionistiche. Dopo aver avuto la deflazione della pandemia abbiamo avuto il botto enorme dell'inflazione. Quindi questo libro, mai credo di aver scritto un libro insieme a questa volta i miei colleghi e amici, così tempestivo verrebbe da dire, ma anche così necessario doverlo quasi continuamente aggiornare minuto per minuto perché le cose stavano cambiando. Il fatto di averlo scritto inizialmente per un lettore internazionale, per un pubblico internazionale, ha accentuato quella dimensione comparativa che è molto importante per capire un paese. Perché a volte uno dice ma il mio paese è peculiare, oppure le peculiarità si capiscono di più se sono peculiarità oppure se sono invece tratti comuni a sistemi simili quando ci si confronta. E noi abbiamo utilizzato, utilizziamo in questo libro, per merito devo dire della mia amica e collega Enrica Morlicchio, che lei ha molto insistito perché usassimo questo approccio, il termine regime di povertà. Cioè, sosteniamo la tesi che il regime di povertà, vi spiego, italiano abbia delle sue caratteristiche peculiari che lo rendono in parte diverso da regimi di povertà, che so, tedeschi di quell'area lì, piuttosto che scandinavi, eccetera. Cosa si intende per regime di povertà? Si intende la combinazione di circostanze che non solo favoriscono gradi maggiori o minori di povertà, cioè favoriscono che si produca povertà o viceversa, fanno da contrasto all'emergere della povertà. Ma perciò stesso anche costruiscono i poveri in un certo modo, cioè costruiscono le caratteristiche che hanno i poveri in un determinato regime piuttosto che in un altro. Per spiegarmi meglio, vi dico quali sono le caratteristiche del regime della povertà italiana così come ci sembrano essere. Innanzitutto, questi sono stati ricordati, un grande dualismo territoriale, benché non siamo più negli anni 50. L'Italia è il paese che su base territoriale in Europa, dal punto di vista dello sviluppo economico, della ricchezza, eccetera, è il più diverso dentro l'Unione Europea, persino più diverso della Germania Est e della Germania Ovest, tanto per dire. E questo è un tratto lungo del nostro paese. Quindi la diversità, ma anche un mercato del lavoro molto frammentato, frammentato in termini di contrattuali, ma anche in termini di protezioni sociali. Noi per esempio non abbiamo, con la pandemia se ne è cominciato a discutere, ma poi dopo è anche cambiato il governo, quindi io non so più a quel punto è questa discussione, del fatto di ammortizzatori sociali universali, ad esempio. Non abbiamo un'identità di disoccupazione. Tutto il governo Renzi si era iniziato a fare qualcosa, ma non si è arrivato, no? Non abbiamo. Per cui a seconda di da dove perdi il lavoro hai un tipo di protezione diversa. E lo abbiamo visto durante la pandemia, quando hanno dovuto moltiplicare gli interventi e poi a seconda della categoria teco in cui uno aveva avuto un bono. E per fortuna ci sono state queste cose che però sono state altrettanto frammentate. Quindi questo, un sistema di welfare che c'è, non è che noi spendiamo meno della media europea, però lo spendiamo in un modo forse meno efficiente e meno universalistico, a parità di bisogni, lo stesso tipo di risposte. abbiamo anche un bassissimo, in termini comparativi, credo che Malta abbia solo un tasso di occupazione femminile più basso, molto basso. Credo che Malta lo abbia più basso dentro l'Unione Europea. E questo cosa significa? Che è una delle caratteristiche della povertà in Italia, su cui tornerò, che abbiamo tantissime famiglie monoreddito. Soprattutto nei ceti economicamente più modeste. Cioè dove, vabbè, le basse qualifiche o la bassa istruzione unite al carico familiare rendono molto difficile, non solo difficile trovare un lavoro, ma anche tenerlo, perché anche che valga la pena, nell'immediato ottenerlo, perché il trade off tra quanto si prende e quanto costa o quanto lavorare può non essere adeguato. E comunque l'Italia è uno dei paesi europei in cui l'incidenza delle famiglie con un solo reddito è molto alta, soprattutto, non parliamo del mezzogiorno, dove il tasso di occupazione femminile è quasi la metà di quello del nord, ma in generale abbiamo un'alta incidenza delle famiglie in monoreddito, soprattutto nei livelli più bassi. E questo quindi rende vulnerabili non solo le donne, nel caso qualcosa succeda quel matrimonio, eccetera. Ma le famiglie in generale, perché se si perde un reddito non c'è, come dire, un'alternativa ed è anche responsabile, ci tornerò, anche dell'alto tasso di povertà minorile. Un'altra caratteristica, e voi se leggete questo libro trovate poi tutti i dati quantitativi, anche comparativi con altri paesi nei primi due capitoli. Adesso non voglio annoiarvi abbiamo anche un alto tasso di disoccupazione giovanile. Cioè i giovani italiani fanno più fatica a entrare nel mercato del lavoro e a entrarci con una certa stabilità, cioè entrano più tardi e in modo più precario in una condizione di rete di protezione sociale frammentata, che quindi non dà molte protezioni soprattutto a queste figure. L'abbiamo visto con la pandemia, sia con la crisi del 2008 che con quella pandemia, che i primi a saltare sono stati i lavori precari giovanili e femminili. Quindi queste caratteristiche, accanto a una frammentazione del sistema di welfare, abbiamo una grande aspettativa nei confronti della famiglia come rete di protezione, rete di protezione verso i giovani. Io mi ricordo quando si discuteva come si chiamava i contratti che prendevano i giovani. Cioè tanto possono prendere poco, era ancora negli anni 90, perché tanto c'è una famiglia, cioè mi mantengono i genitori, no? Quest'idea. Non a caso poi i giovani italiani escono tardissimi, molto più tardi dai loro coetanei, dalla famiglia d'origine, per motivi culturali, ma anche per motivi che non possono pagarsi l'affitto, che spesso dovrò tornare indietro, perché se il lavoro non c'è più chi paga l'affitto. Quindi la disoccupazione giovanile, da un lato rende vincolo all'autonomia giovanile, dall'altro appesantisce le famiglie di origine che devono mantenere molto più a lungo i propri figli. Quindi si è figli a carico per molto più tempo, quindi che in altri... E le famiglie hanno carichi dipendenti familiari molto più a lungo. Però le aspettative nei confronti della famiglia riguardano anche la cura, che è uno dei motivi per cui l'occupazione femminile poi è difficile, soprattutto nei ceti economicamente più modesti dove non si possono pagare i servizi. Quindi tutto questo detto in modo semplificato e un po' in fretta significa il regime di povertà, da cui discende che la povertà in Italia è un fenomeno eminentemente familiare. Sono le famiglie, non i singoli individui. Se noi guardiamo per esempio nei paesi nordici, sono più spesso adulti che vivono da soli o giovani che vivono da soli. Quelli che sono poveri possono essere nella transizione verso un lavoro più... In Italia sono soprattutto famiglie con figli minorenni. Il grosso, poi ci sono anche i soli, ma il grosso della popolazione in povertà in Italia è fatta da famiglie con figli minorenni. Specie, se numerose e numerose state attenti, non vuol dire che sono... Lo dico sempre con un certo timore e tremore, perché io come figlia appartenevo a una famiglia numerosa, nel senso che eravamo sei figli. Ma oggi, quando si parla di famiglie numerose, si parla di famiglie che ne hanno tre. Cioè quella che era una famiglia piccola nella mia esperienza, o media. Oggi invece una famiglia numerosa è numerosa se ha tre o più figli, se è composta da cinque persone complessivamente. Questo dato ci spiega come mai oggi in Italia, ma questo avviene a partire dalla seconda metà degli anni 90, l'incidenza della povertà tra i minorenni sia più alta che tra gli adulti e più alta che tra gli anziani. Perché, dato che la povertà è concentrata nelle famiglie numerose, dove ci sono tre minorenni e due adulti, ci sono più minorenni che sono poveri numericamente, che non gli adulti. Non avviene così in tutti i paesi. L'Italia non è l'unico paese in cui la povertà minorile supera quella degli adulti e degli anziani, però è uno dei paesi. I figli sono pezzi core e anche il paese della povertà minorile. Una povertà minorile che ha continuato a crescere dalla seconda metà degli anni 90 e che nelle due crisi ha, dal punto di vista della povertà assoluta, conosciuto un balzo terrificante. Oggi il 14% dei minorenni in Italia vive in povertà assoluta, più nel mezzogiorno, più tra gli stranieri, però il 14%, che è tantissimo perché essere poveri, crescere da poveri è altamente predittivo per diversi motivi di rimanere poveri per tutta la vita. Quindi voi vedete che le cose si tengono. Anni fa io avevo fatto fare delle stime, poi dopo non le ho più aggiornate, ma l'ultima mi sembra che sia sul 2020. Cioè guardando alle famiglie in cui nessuno è occupato e lavora, ovviamente il rischio di povertà è altissimo in generale e per i minorenni in particolare. Ma è molto alto anche nelle famiglie in cui c'è un adulto solo che è occupato, mentre diminuisce di due terzi se sono occupati entrambi. Soprattutto se se ne sono occupati due, soprattutto se i due sono i genitori. Questo ci spiega perché nelle famiglie con un solo genitore il rischio di povertà è più elevato che nelle famiglie con due, perché lì per forza lavora una sola. Ma di nuovo ci suggerisce che sostenere l'occupazione femminile è una delle misure principe di contrasto alla povertà. Dovrebbe essere una misura principe di contrasto alla povertà, ma invece non succede così. Quindi questo è il quadro. Il regime di povertà italiana è caratterizzato da un welfare, da un mercato del lavoro eterogeneo, su cui si sovrappone un welfare altrettanto eterogeneo e scarso sul versante della cura sia dei bambini che delle persone non autosufficienti, sufficienti, basso tasso di occupazione femminile soprattutto delle madri e con la pandemia non si sono allargati solo le disuguaglianze rispetto all'occupazione tra uomini e donne, si sono allargati anche quelle tra madri e non madri, tra madri di figli piccoli sotto i sei anni e non madri. Quindi anche questa disuguaglianza si è allargata e qui si sovrappongono anche le disuguaglianze territoriali. Quindi è una società in cui la famiglia è molto sovraccaricata di aspettative e di doveri, ma poco sostenuta da servizi e trasferimenti. Va detto che durante la pandemia, non durante la crisi del 2008, ma durante la pandemia si è cominciato a discutere di alcuni di questi elementi, si è discusso ed è passato la riforma dell'assegno unico, che per la prima volta in Italia fornisce un sostegno universale, anche se diverso in importo, ma comunque qualcosa per tutti i figli e vediamo se questo ha avuto un esito in termini di contrasto alla proprietà. Aspettiamo i dati del 2022 e si è cominciato a discutere di riforma degli ammortizzatori sociali in senso più universalistico. L'assegno per i figli credo che non sarà tolto. Questo è il secondo aspetto, ho dei dubbi. Sembrava che avessimo portato a casa il reddito di cittadinanza, perlomeno da riformare, perché andava assolutamente riformare. Ho presieduto una commissione che ha fatto ben dieci proposte di riforma, in differenza generale del committente. Il governo era il mio committente, ma il governo non ha preso, quello là, non quello di adesso, quello là, non ha reagito ai proposti che abbiamo fatto. Quindi andava sicuramente riformato, ma altrettanto sicuramente era necessario, è necessario, che ci sia una misura, chiamiamola di ultima istanza, una rete di protezione finale per chi non ha nulla, per i poveri. Ma su questo magari torniamo dopo. Dalle caratteristiche della povertà italiana emergono due caratteristiche abbastanza di lungo periodo, almeno dalla seconda metà dell'anno 90. Una probabilmente di più lunga data e una nuova, dovuta a fenomeni più recenti. Due caratteristiche sono, uno, la povertà minorile, molto alta, che poi non è una sola povertà economica, diventa anche povertà educativa, eccetera, ma magari ci torniamo dopo. L'altra è l'alta incidenza di famiglie di lavoratori poveri, della povertà nonostante il lavoro, non solo su base individuale, ma su base familiare. In Italia si trova in povertà assoluta il 7% di tutte le famiglie con almeno un lavoratore. E il 14% se questo lavoratore è operaio o assimilato. Come mai? È tantissimo. È uno dei paesi occidentali, sviluppati, dell'Ox, eccetera, in cui questo fenomeno ha maggiore incidenza. Come mai questo? È una combinazione sia di lavoro povero, cioè lavoro poco pagato, oppure a tempo parziale involontario, o entrambe le cose assieme, precario, eccetera, oppure di lavoro pagato modestamente, ma come dire, entro un ideale salario minimo, eccetera, ma essendo l'unico reddito sbilanciato rispetto ai bisogni familiari. Cioè un reddito modesto che sarebbe adeguato per una, due persone, tre persone, quattro, ma che diventa troppo modesto. Se è l'unico, il fenomeno dei lavoratori poveri è strettamente collegato con il lavoro povero da un lato, ma dall'altra parte con l'incidenza delle famiglie monoreddito. Infatti se noi andiamo a guardare chi sono i lavoratori poveri su base individuale, cioè quelli che hanno un lavoro pagato meno della metà del salario medio, perché non avendo il salario legale minimo possiamo solo riferirci al salario medio, o che hanno part-time involontari, eccetera, eccetera, sono prevalentemente giovani e donne. Perché sono loro concentrati. Che non è che ci va bene questo, ci va malissimo perché è contro l'autonomia dei giovani, contro la possibilità delle donne di uscire da un matrimonio che non vogliono, o così. Infatti che i giovani sono sia maschi che femmine, le donne sono sia giovani che in età centrale. Se sono madri sole, questo è chiaramente un rischio di povertà, mentre se non sono da sole, e così come se un giovane vive in famiglia, non necessariamente il suo salario basso o il suo part-time involontario si traduce in una povertà rispetto all'accesso ai consumi. Se non deve pagare l'affitto perché vive con i suoi, eccetera. Di nuovo, non sto dicendo che va bene, però non appare come un povero. Ecco, non appare come un povero. Mentre se noi andiamo a guardare chi sono i lavoratori poveri su base familiare, cioè che sono, è la famiglia che è povera, la famiglia del lavoratore, sono prevalentemente uomini, sono o donne capofamiglia o più spesso uomini, che sono l'unico percettore di reddito in una famiglia in cui quindi questo è interessante. C'è questa combinazione e dobbiamo sempre stare attenti se stiamo parlando di due fenomeni che sono gravi entrambi, del lavoro povero, troppo poco pagato o col part-time involontario, se poi uno è un lavoratore povero ed è anche l'unico percettore di reddito, magari sono in due, ma non ce la fanno a mettere insieme un reddito intero, va malissimo, ovviamente, dato che sta aumentando questa quota, la cosa va piuttosto male. La terza caratteristica più recente della povertà italiana è la sua forte incidenza nella popolazione straniera in tutti i paesi. Gli stranieri, soprattutto se di migrazione recente, di prima o di seconda generazione, sono collocati più spesso verso le fasce più basse della popolazione, anche se magari hanno alte qualifiche, soprattutto se sono emigrati di necessità. Io ho vissuto in Germania cinque anni e non mi trattavano da emigrata. Ero lì come una professione, stavo parlando degli emigrati di necessità, o economici, o perché è in fuga dalla guerra. Quindi tutti. Però l'Italia è un paese dove anche a dieci anni di distanza è come se si raggiungesse un tetto. Non si migliora, anche se si hanno delle buone qualifiche. E l'Italia effettivamente ha questo 30% dei poveri che sono stranieri. E' tantissimo. Questo anche spiega perché con il peggioramento che c'è stato con la pandemia, anche nel nord la povertà assoluta si è molto aumentata. A parte ha colpito gli italiani, ma soprattutto ha colpito gli stranieri che vivono di più nel nord che non nel mezzogiorno. Però anche questo, sto parlando degli stranieri che vivono regolarmente, cioè che sono qui regolari, quelli che possono essere censiti, non sto parlando di quelli che vivono sotto i ponti, sto parlando di questi che possono essere trovati quando si fa l'intervista quando l'Istat va a cercarli. Questo ci può dare un problema rispetto, soprattutto se pensiamo che l'incidenza della povertà tra i minorenni stranieri è ancora più alta. perché se noi ci preoccupiamo di cosa succederà dei minorenni italiani in povertà ancora di più ci dobbiamo preoccupare dei minorenni stranieri che devono superare ostacoli ancora maggiori in termini di risorse culturali, sociali, di appoggi, e così via. Per lo meno analogamente ci dovrebbe dare un piccolo problema. ma ho finito questo primo giro che ho preso tanto tempo. Sì, riprenderei dal punto di arrivo. Perché dentro l'impoverimento degli stranieri con un livello così elevato si misura anche una sorta di strabismo sociale che noi abbiamo nei confronti degli stranieri. Per cui lo straniero integrato e nel nostro caso sono oltre 6 milioni di cittadini residenti legalmente con quasi 2 milioni di nuove cittadinanze e appare sostanzialmente invisibile a fronte di una mobilitazione che viene continuamente riprodotta sull'arrivo. In realtà il ruolo esercitato dalla componente straniera nel nostro paese ormai è anch'esso strutturale. Non entro nel merito dei 5 lavori delle 5 P dei lavori poveri precari penalizzati eccetera eccetera che segna gli stranieri ma è come dire largamente determinanti in molti comparti manifatturieri e nel lavoro di cura. Guardate che questo impoverimento mette un'indiscussione in modo abbastanza radicale quella che è un'integrazione di fatto riuscita anch'esso un'integrazione fai da te perché le politiche mirate all'integrazione degli stranieri sono sempre stati nel nostro paese un altro elemento di cortocircuito ma come dire di fatto riuscita che sono ormai una componente sostanziale del nostro paese dove si ci continua a misurare sul noi e il loro ma gran parte di queste 6 milioni di cittadini sono noi al di là della come dire della dimensione anagrafica di cittadinanza ritorno al tema delle povertà educative perché guardate nel nostro paese dove ormai si stanno toccando dei numeri minimi sulla natalità noi siamo sotto i 500 mila nati all'anno siamo a 3-400 mila nati con un saldo naturale che ormai è doppio non parliamo di una città come Genova dove il saldo naturale è triplo è il negativo ovviamente ma come dire in questa condizione avere figli è una delle possibilità per diventare poveri è una straordinaria contraria averne uno in più averne uno in più talvolta per le coppie giovani anche averne uno se non si ha il sostegno familiare tanto che la scelta ormai di avere figli si sposta su un'età sempre più avanzata noi abbiamo il livello più alto in Europa rispetto alle maternità e largamente condizionata dalla presenza di risorse familiari i genitori di qualcuno delle coppie che supportano come dire un percorso però il tema della povertà minorile prima venivano citati dei numeri se vi decidere le aumenta ancora va oltre il milione e quattro parla di uno di un minore su quattro a Genova siamo uno su cinque ed è qualcosa dentro cui la povertà che è diventata strutturale come diceva prima Chiara Saraceno rischia di diventare anche ereditaria questo qui è il passaggio cioè le povertà del presente costruiscono le povertà del futuro e questo elemento della diseguaglianza che parte dai primissimi da primissimi mesi d'età si intreccia poi con le fatiche di una scuola che non è più in grado di produrre promozione sociale che è essa stessa faticata e dove come dire i percorsi di abbandono e di dispersione sono straordinariamente elevati ecco il tema quindi delle povertà minorili è un tema centrale un tema centrale ragionando sul capitale sociale del paese ma anche sulla valorizzazione della personalità delle competenze che è come dice l'articolo 3 della costituzione pensate noi abbiamo un livello di dispersione scolastica che è circa del 13% a cui si aggiunge una dispersione implicita che è dell'8 al 9 e avviene emblematicamente nel passaggio tra le scuole secondarie inferiore e scuole secondarie superiore cioè è lì il punto dove superato come dire un primo scoglio ma legato anche a una scuola che riesce ancora in grado di produrre processi di accompagnamento abbiamo la caduta con un segno mi verrebbe da dire una volta usando i termini di una volta davvero di classe perché pensate che nei professionali si boccia più che nei licei nei licei si allontana si come dire noi abbiamo licei famosi nella nostra città dove c'è il 20% di mutamento nel corso d'anno scolastico 20% di ragazzi che cambiano percorso di studio ma nei professionali si boccia e così noi abbiamo come dire davvero uno spreco straordinario che poi porta a quello che è il numero più alto che ha l'Italia rispetto all'Europa dei NIT circa il 20% dei ragazzi tra i 15 e 29 anni che non studia e non lavora abbiamo anche qui per dire le contraddizioni un livello basso di laureati rispetto all'Europa ma abbiamo anche il massimo dei lavori sovristruiti ecco però per tornare all'aspetto della dimensione della povertà minorile io credo come dire che sia il segno anche di un sistema di welfare anche qui molto fondato sulle opportunità delle famiglie ma dove non si riesce a integrare il tema dei servizi educativi con quelli sanitari con quelli sociali rimane tutto sminuzzato la persona non è accompagnata non si riesce a produrre un percorso di inserimento la presenza degli asili nide qui torna l'assenza dei servizi di cura è circa il 13% in Italia l'Europa poneva l'obiettivo di Lisbona del 30-32% a Genova arriviamo al 30% insieme tenendo insieme pubblico e privato ma con degli oneri che non sono appunto accettabili da tutte le famiglie ecco se noi ragioniamo sulle povertà in Italia il tema delle povertà minorili è davvero la rappresentazione di un paese che è poco attento anche al suo proprio futuro cioè che è concentrato sul presente dentro cui appunto molto modelliamo anche la dimensione della politica e l'assenza di un percorso di sostegno a quelli che sono i diritti Chiara Saracena Sì la povertà minorile è una delle ingiustizie più grandi perché in C uno potrebbe dire che gli adulti è colpa loro non io non ne lo dico ma voglio dire chi dice che la povertà è colpa dei poveri lo può dire degli adulti non può dirlo dei minorenni non è colpa non l'hanno detto loro alla Ciconia dove depositarli tanto più in un paese in cui e questo l'aveva fatto vedere l'Oxe quindi non un'agenzia particolarmente rivoluzionaria qualche anno fa in un libro un rapporto che aveva un titolo molto suggestivo in inglese era Sticky Floors Sticky Sealing cioè pavimenti e soffitti appiccicatici cioè dove nasci rimani appiccicato se nasci in basso difficilmente migliore e aveva confrontato diversi paesi cioè i paesi dell'Oxe facendo vedere le chance che aveva il figlio di uno che non aveva i genitori che non avevano più della scuola dell'obbligo di andare all'università e viceversa le chance di chi aveva di chi era figlio di laureati di andare all'università e si mostrava e l'Italia era uno non l'unico ma uno dei paesi in cui i pavimenti e i soffitti sono più appiccicatici dove la nascita è un destino è un destino più fortemente poi tutti abbiamo degli esempi che mostrano che no che si può eccetera però statisticamente la nascita è molto un destino un economista romano Franzini dice che in Italia mi sembra il reddito di un uomo maschio nel fiore degli anni è per il 40% predetto dal reddito che aveva suo padre quando aveva 15 anni tanto il 40% una volta discutendone con Stiglitz l'economista statunettese che è stato premio Nobel dice sì ma negli Stati Uniti è il 50% il 60% non mi consola voglio dire non è non è una competizione in cui vorrei entrare ci ho detto nascere da perché c'è questa vischiosità così forte e adesso parliamo dei pavimenti non solo dei soffitti ma dei pavimenti che se nasci in basso è difficile tirarti fuori per diversi motivi alcuni hanno a che fare con le risorse di capitale sociale cioè delle persone che conosci delle opportunità che incontri sulla base del dove vivi e di che famiglia sei e così via delle scuole che ti possono far fare i tuoi genitori eccetera è importantissimo cioè se un genitore povero e magari anche poco istruito crede tantissimo nel ruolo dell'istruzione farà di tutto per mandarti per farti anche se invece pensa che no o che comunque è importante che tu vada a lavorare perché non ce la si fa allora ti manca anche quella cosa lì ma non è colpa del genitore ovviamente ma ormai moltissime ricerche pedagogiche neurologiche mostrano mostrano come in nascere in condizioni deprivate parlo di povertà quindi non solo disuguali un po' meno deprivate incida fortissimamente sullo sviluppo cognitivo delle persone e sullo sviluppo complessivo di un bambino ormai è acquisita la consapevolezza almeno a livello delle conoscenze consolidate che i primi mille giorni si dice così sono importantissimi che non si può aspettare che uno arrivi alla scuola elementare certo poi bisogna lavorare anche lì ma quando un bambino arriva alla scuola elementare se non ha avuto abbastanza opportunità e risorse occasioni per sviluppare tutte le sue potenzialità è come imparare una lingua no? o imparare a camminare se uno è rimasto fermo seduto e non ha parlato poi dopo qualcosa certamente si può fare come no? ma certe capacità certe possibilità sono perse per sempre o perlomeno molto più difficilmente e non è colpa dei genitori non è perché i genitori non sono bravi c'è un problema di alimentazione c'è un problema di tempo c'è un problema di consapevolezza c'è un problema per questo molti pediatri non solo i pedagogisti dicono che bisogna anche accompagnare i genitori alla nascita perché scoprono quello che si può fare con un bambino anche piccolissimo leggergli per esempio leggere le storie anche a un bambino che non capisce niente chiuse le virgolette aperte chiuse le virgolette ma da questo punto di vista sono fondamentali i servizi per la primissima infanzia ormai ci sono delle ricerche che mostrano al netto del fatto che i bambini bisogna dare da mangiare in modo adeguato a prescindere vi ricordate durante la pandemia ci si è un po' preoccupati del fatto che i servizi per il cibo a domicilio per gli anziani non funzionavano nessuno si è interrogato cosa succedeva ai bambini che non avevano più la mensa scolastica in cui spesso avevano l'unico pasto decente proteico al giorno nessuno si è preoccupato di cosa succedeva ai bambini più poveri che erano costretti in abitazioni strette senza no erano chiusi in casa no non ce ne si è preoccupati per nulla un pochino nel fatto dopo un po' in ritardo se ci avevano il tablet ai giga ma se avevano da mangiare abbastanza se potevano prendere aria perché magari non tutti avevano neanche un balcone non dico un giardino ci si è preoccupati di portare a spasso il cane il diritto di portare a spasso il cane ma non il bambino in passeggino questo me lo ricorderò sempre lo denunciai allora e lo denuncerò sempre ma nel caso ai bambini poveri i servizi educativi sono necessari nella primissima infanzia come il pane non invece del pane e del cibo proteico ma sono necessari come il pane non per contrastare i genitori ma per aiutare per allargare le loro possibilità sono servizi di pari opportunità per i bambini non sono solo servizi di conciliazione famiglia lavoro per le donne e purtroppo in Italia si continua a dirli solo come servizi di conciliazione figuriamoci se io dico che non sono figuri ho combattuto tutta la mia vita per questo ma non sono solo servizi e se continuiamo a dire che sono servizi di conciliazione non li daremo proprio a quei bambini che ne hanno più bisogno perché tanto le loro mamme non lavorano e infatti dove non ci sono i servizi educativi per la prima infanzia nel mezzogiorno e nelle aree più povere perché tanto non ce n'è bisogno perché le mamme non lavorano oltretutto non lavorano anche perché diventa anche un circolo vizioso ma se non si pensa ai bambini che è un diritto dei bambini è una misura di pari opportunità per i bambini non sufficiente non risolve il problema della povertà ma almeno contrasta quegli effetti della povertà che incidono sullo sviluppo delle capacità e che sono una lesione della secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione che non riguarda solo gli adulti riguarda innanzitutto i bambini quando si dice che compito della Repubblica eliminare gli ostacoli al pieno sviluppo della personalità questo dice e questo deve valere per i bambini il tempo pieno scolastico non c'è in molte zone non c'è ovviamente deve essere buono perché se è fatto male meglio che non ci sia ecco non c'è la scuola dell'infanzia a tempo parziale esiste solo in alcune zone del mezzogiorno io mi sono arrabbiata quando col PNRR dove i fondi sono stati destinati soprattutto al mezzogiorno per i servizi per la scuola eccetera però il tutto è stato affidato ai bandi anche il contrasto alla dispersione scolastica ai bandi per cui se un comune era in grado di rispondere aveva voglia di rispondere rispondeva se è un servizio essenziale ma tu lo devi garantire tu Stato altrimenti che è siamo cittadini diversi a seconda di dove viviamo e lo diventeremo presto con l'autonomia scolastica e l'autonomia regionale quindi il problema della non è come dire il concetto di povertà educativa non è nato in Italia in Italia è stato portato quindi è un fenomeno che c'è anche in altri paesi ma nel nostro paese è piuttosto pesante lo vediamo poi in tutto il corso della vita i 15-29 anni che ne studiano e ne lavorano sono in realtà un gruppo molto mescolato ci sono quelli che sono ma lì dentro ci sono quelli che hanno perso il lavoro che lo stanno cercando ci sono ma lì dentro quelli più problematici sono quelli a bassa istruzione che non lo cercano più sono stati scoraggiati dalla scuola non hanno trovato motivazione incentivo eccetera l'hanno abbandonata presto e sono scoraggiati anche dalla ricerca del lavoro quello è il gruppo più problematico dei NET e la cosa che diceva prima lui ovvero che la scuola seleziona negativamente di più nelle scuole frequentati dai più poveri perché diciamocela francamente il nostro sistema scolastico è un sistema molto classista nel mondo cioè trattificato uno può dire che gli istituti professionali sono una meraviglia ma nessuno ma se uno può manda al liceo se appena può ecco quindi sono di fatto sono frequentati da uno un laureato manda il proprio figlio anche se magari sarebbe meglio di no al liceo anche poi a furia di 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 lezioni private prima di dire magari magari vorrebbe lavorare con le mani e sarebbe bravissimo ma c'è una graduatoria degli abbandoni nel primo anno che è impressionante per tipo di scuola davvero impressionante sono mondi totalmente diversi si parla dai professionali agli istituti tecnici ai licei ma dove tra i licei alla fine e le scuole professionali all'inizio non c'è non c'è confronto e se sono stranieri perché poi i figli degli stranieri appartenendo e c'è di e perché devono lavorare e perché non hanno bene l'idea di come è fatto il mondo i loro genitori eccetera dice beh così vai lì così lavori subito mica vero e comunque vengono scoraggiati ci sono bambini ragazzini che escono dalle medie che sono gravissimi che poi vengono messi in scuole che non sono adatte a loro ma soltanto perché devi andare a lavorare presto o avrai una cosa che diventano scoraggiati che abbandonano facilmente con tutto il rispetto per uno dovrebbe scegliere la scuola sulla base delle sue vocazioni non solo a base della sua classe sociale come invece per lo più avviene poi forse certe scelte non dovrebbero essere fatte così presto ecco certe bisognerebbe guardarle un po' di più però il problema è che bisogna prenderli prima certo che se li prendiamo prima e poi li scoraggiamo alla fine e questo altro che capace e meritevoli altro che merito ma scusate ogni tanto mi arrabbio mi sembra giustissimo arrabbiarsi anche perché guardando all'insenso più lato e sia pur in modo più sintetico il successo formativo in Italia è strettamente collegato in larga parte da dove nasce e da chi nasce e questo è qualcosa che rimanda anche ai percorsi di promozione sociale sono molti gli studi che indicano se tu sei figlio di laureato hai la possibilità di rimanere nella fascia alta della società se tu sei figlio di una famiglia fragile e deprivata le possibilità che ancora esistevano fino a 20-30 anni fa cioè in modo più forte c'era un percorso di promozione sociale ancora aperto si misurano col blocco dell'ascensore sociale e per quello che diceva prima Chiara Saracena su il legame tra povertà materiale povertà educativa e anche perdita delle possibilità di sviluppo della personalità per quel che valgono insomma i test invalsi i test PISA dicono in modo molto netto della differenza cognitiva e quindi di capacità di risposta tra chi come dire vive nella fascia più deprivata e chi invece come dire si vive però mostrano anche che se hanno frequentato a parità di condizioni familiari socio-economiche quelli che hanno frequentato precocemente servizi educativi recuperano assolutamente sì ma questo è il motivo per cui è giusto arrabbiarsi perché non è un destino adatto in realtà dentro c'è un enorme straordinario spreco di capitale umano e sociale oltre che negazione della portività e dell'opportunità delle persone con un altro fenomeno guardate che è importante dentro le tante rimozioni che al nostro vivere civile non prendiamo in considerazione che la nostra scuola perde circa 100.000 studenti l'anno e in termini demografici con la presenza di alunni stranieri anche se nati in Italia perché quelli che noi continuiamo a chiamare alluni stranieri sono per il 60-70% nati in Italia che non suppliscono il calo cioè oggi sono circa il 10% però c'è un fenomeno nuovo che peraltro riguarda anche molti dei quartieri più poveri delle nostre città dove i più poveri degli italiani ormai hanno lo stesso sistema di vita e le stesse difficoltà dei più poveri tra gli stranieri cioè è come dire un ulteriore elemento dentro cui poi si sono si misurano e si sono misurati tanti anche dei percorsi che hanno supportato razzismo e xenofobie e volevo fare un'ultima in questo caso domanda a Chiara Saraceno perché è strettamente collegata insomma a una sua esperienza istituzionale importante quella legata appunto al reddito di cittadinanza assumendo un aspetto come già lei ricordava che Chiara Saraceno ha rivolto nel tempo e sin dalle origini delle forti critiche rispetto al reddito di cittadinanza sottolineando nella Valenza io credo che sarebbe utile ricordare oggi ma è già stato dimenticato che il reddito di cittadinanza ha ridotto la crescita delle povertà di almeno un milione di persone cioè questi sono come dire i dati i dati ma con moltissimi limiti in particolare appunto rispetto a paradossalmente pur essendo prese considerata politiche attive del lavoro penalizzando chi invece trovava in qualche misura o aveva opportunità lavorative e poi ancora una volta la dimensione delle famiglie con minori e da quella dal reddito di cittadinanza pur con i suoi limiti siamo arrivati al mia acronimo che io trovo terribile ma questa è un'altra espressione che vuol dire misure inclusione attiva che forse è sua più che mia ma comunque cioè con una riduzione già immediata della platea quasi come dire questa riduzione portasse un voler fare cassa e con però alcuni straordinari passi indietro ecco mi piacerebbe se chiudessimo questa nostra conversazione con questa esperienza di Chiara Saraceno dentro il comitato scientifico di valutazione del radio di cittadinanza e qualche sua valutazione sulle prospettive future dal punto di vista soggettivo è stata una bellissima esperienza perché abbiamo lavorato bene e d'accordo dal punto di vista del senso di utilità è stata una delle tante esperienze di inutilità di un lavoro di cui ho come dire una certa vicenda storica dietro le spalle ogni tanto mi chiedo come mai cosa diavolo faccio nella vita ma comunque no nel senso che diciamo la storia la legge istitutiva del reddito di cittadinanza prevedeva l'istituzione di un comitato scientifico che valutasse in realtà una cosa marginale cioè facesse una ricerca sull'impatto e delle misure di accompagnamento sulla loro efficacia quindi quella di inclusione attiva e di inclusione lavorativa poi dopo è scoppiata la pandemia e quindi era difficile fare questa cosa ma comunque sì il problema è che questa commissione non era mai stata nominata dal 2019 è stata nominata a marzo del 2021 governo Draghi quindi il conte 1 e il conte 2 non l'avevano mai nominata quando ci hanno nominato ci hanno dato il ministro Orlando ci diede il mandato e per questo io mi sono anche un po' arrabbiata poi alla fine ci diede un mandato preciso visto che c'era tutto questo dibattito e anche questa ostilità nei confronti del reddito di cittadinanza a destra a sinistra e al centro una ostilità abbastanza trasversale il mandato di fare delle proposte di modifica migliorativa questo era per renderlo più efficiente efficace più equo eccetera e noi con questo mandato abbiamo lavorato abbiamo fatto le nostre dieci proposte adesso vi dico quali i limiti avevamo visto ma non solo noi sono stati rinunciati anche da Alleanza contro la povertà da Caritas cioè da tutti quelli che lavorano sul campo oltre che dagli studiosi siamo arrivati persino perché mi fu richiesto me lo ricorderò sempre la mattina per la sera di fare anche un articolato di legge da mettere dentro alla legge finanziaria per il 2022 cosa che trovavo impropria come richiesta a un comitato scientifico fare un articolato di legge anche perché io non sono mica capace quindi con i funzionari abbiamo tentato di mettere insieme qualche cosa che avesse un senso e avesse anche come dire la cornice formale giusta di tutte le nostre proposte non ne passò neanche una apparentemente ne era passata una perché venne enunciata da Draghi in conferenza stampa ovvero quella che toglieva la penalità a chi trovava un lavoro perché adesso succede che se uno guadagna se uno che percepisce il reddito di cittadinanza trova un lavoretto o ha un lavoretto un lavoro un lavoro per ogni un lavoro che non lo porta fuori dal reddito di cittadinanza ma comunque che modifica il suo reddito di partenza pur senza portarlo fuori dalla soglia prevista per ogni euro che guadagna gli vengono tolti 80 centesimi dal reddito di cittadinanza quindi guadagna per 20 centesimi ogni euro poi quando deve rifare l'ISE tutto quello che è andato gli viene conteggiato e quindi gli si abbassa ultimamente la cosa che sembra una cosa lievemente stupida così disincentivante il lavoro ufficiale incentiva il lavoro nero oppure dice cosa vado a lavorare per 20 centesimi ogni euro non mi conviene anche perché non mi pago neanche il biglietto del Trump se lo devo prendere no così per cui noi dicevamo suggerivamo facciamo un'esenzione cioè non l'abbiamo inventato noi in moltissimi paesi in Francia in Germania eccetera esiste questo cioè che se tu lavori e prendi il sostegno al reddito ti incentivo fino a un certo punto no in modo che lavorare paghi come si dice convenga convenga cioè prendi di più alla fine abbastanza di più non solo 20 centesimi ogni lavorante per cui diciamo fino alla soglia esente trovare una soglia non che Draghi lo annunciò dicendo è già certo così dopodiché la cosa sparì nel nulla non so se la ragioneria aveva detto che costava troppo queste cose poi mio pinoco costa un po' di più adesso ma alla lunga cioè perché se uno è incoraggiato a lavorare poi poi rimane nel mercato del lavoro eccetera eccetera quindi magari esce dal sussidio mentre invece se tu lo puni vabbè che vi devo dire l'altra proposta che avevamo fatto era quella di diminuire il requisito di residenza per gli stranieri che era di dieci anni e lì ci fu detto che preferivano di essere messi in mora dall'Unione Europea cosa che poi puntualmente è avvenuta ci ha messo in mora piuttosto perché era una cosa politicamente sensibile perché gli stranieri fanno parte dei brutti e cattivi non dei buoni ma dei brutti e cattivi secondo Sergio Leone e comunque non meritano nulla perché non sono noi e avevamo anche detto di modificare la scala di equivalenza che svantaggiava perché il paradosso è che al momento svantaggiava le famiglie con minorenni perché i minorenni contano la metà degli adulti per cui una famiglia con tre adulti ha più facilità ad entrare nel reddito di cittadinanza che è una famiglia di un adulto e due bambini e prende anche di più no? anche questo piuttosto avevamo detto meglio semmai abbassare la quota massima per una persona sola che è abbastanza alta massima che si può prendere abbassiamo quella e modifichiamo la scala di equivalenza poi avevamo fatto anche altre proposte dieci in tutto perché comunque insistendo sul fatto che la misura del reddito di cittadinanza o come lo vogliamo chiamare adesso c'è anche una nuova raccomandazione europea molto scritta molto bene che è stata anche firmata dal nostro governo attuale a gennaio e per questo che non che non fanno quello che fanno una cosa brutta ma non fanno quello che avevano detto che avrebbero fatto perché hanno firmato una cosa che adesso non possono smentire che dice che il reddito minimo per i poveri è innanzitutto un'integrazione di reddito che deve consentire una vita dignitosa punto dopodiché accanto all'integrazione di reddito ci deve essere per chi è in grado teoricamente di lavorare politiche attive del lavoro che però non sono la sola incrocio tra domande e offerte sono formazione consulenza appoggio accompagnamento soprattutto perché si tratta di persone per lo più molto lontane dal mercato del lavoro e con basse qualifiche quindi che richiedono un forte investimento e tempo e per chi non è in grado di lavorare invece misure di inclusione sulla carta il reddito di cittadinanza era questo c'era il patto per il lavoro e il patto di inclusione peccato che se il capofamiglia firmava il patto di inclusione tutti erano dentro il patto di inclusione il patto per il lavoro tutti la cosa produceva anche un po' di ma qual è stato il limite dei due limiti dei proponenti grossi dei proponenti e di quelli che poi l'hanno attuato del reddito di cittadinanza di averlo proposto innanzitutto come una politica attiva del lavoro non come una politica di contrasto alla povertà anche se poi hanno detto che l'avevano eliminata la povertà non è una politica attiva del lavoro le persone che sono in grado di lavorare devono essere inserite in politiche attive del lavoro ma è una misura di contrasto alla povertà innanzitutto le politiche attive del lavoro devono essere fatti indipendentemente e questi soggetti se attivabili devono essere inseriti ma in un paese in cui non ci sono le politiche attive del lavoro inventarsi una politica attiva del lavoro per i poveri è una follia pura adesso persino adesso i centri per l'impiego non sono pronti non sono del tutto attrezzati non hanno le competenze non hanno abbastanza altro giorno mi hanno telefonato due deliziose neoassurde in un centro per l'impiego del Lazio chiedendomi se secondo me era giusto che loro spingessero con il loro capo perché facesse parte del loro compito anche lavorare con le aziende fornire servizi alle aziende perché non li ha previsto cioè loro essendo giovani laureati eccetera ci hanno pensato da solo ma chiedevano conforto perché dovevano fare un progetto cioè non era una roba che lavoro possono offrire queste cose in un paese dove i centri per l'impiego intermediano il 2% della nanodopera è certamente non quella più sfigata che sono per lo più i percentori quindi questo è stato l'errore concettuale il dirlo perché poi dopo tutti hanno detto visto che non sono andati a visto non hanno trovato lavoro nessuno si è chiesto se gli è mai stato offerto un lavoro certo sulla televisione c'è sempre quello che ha detto io ho offerto voi pagavo anche 2.000 euro al mese ma non sono venuti la ristorazione soprattutto ma non sono venuti quindi questo è stato l'errore e il secondo errore drammatico che poi è tornato indietro anche questo come un boomerang è stato dall'inizio definire i percettori del reddito come potenzialmente imbroglioni nulla facenti vi ricordate le norme antidivano non le hanno invitate adesso i fratelli d'Italia Di Maio parlava di norme antidivano la criminalizzazione e l'idea che non potessero spendere al di fuori di una certa lista di cose perché i poveri bisogna sempre stare attenti perché se gli dai i soldi poi se li bevono tutti non comprano il latte per i bambini quindi c'è una colpa originaria sia di di fattura che di presentazione cosa succede adesso con il MIA non modifica queste due cose perché tuttora continua a pensare che debba essere una misura di politica attiva di fatto tant'è vero che sta facendo questa divisione tra gli occupabili e non gli occupabili eccetera però contrariamente a quello che dicevano non lo toglierà neppure a quelli che loro definiscono occupabili semplicemente cosa sta semplicemente si fa per dire sarà drammatico quello che fanno è dividere in due categorie i beneficiari non sulla base effettiva della loro occupabilità ma sulla base del fatto che abbiano se adulti o meno minorenni persone disabili o anziani a carico o sono minorenni allora questa prima categoria prende di più rimangono i 500 euro come importo massimo per una persona sola non viene cambiata la scala di equivalenza prendono di più per un tempo più lungo 12 mesi rinnovabili dopo un tempo e diminuisce anche per loro hanno abbassato l'ise quindi da 9.000 euro 9.6 sono 6.6 quindi tagliano fuori una fascia di poveri svantaggiando il nord secondo me quindi tagliano fuori poi dividono in due categorie allora quelli che hanno figlia minorenni a carico o disabili o anziani ce l'hanno per un tempo più lungo e con un rinnovo forse un pochino più fluido e questo va bene che vengano protetti i minorenni va bene però non viene cambiata le difficoltà di accesso dei minorenni e noi abbiamo guardato che sono proprio quelle le famiglie perché hanno di solito le famiglie con più figli hanno un reddito un pochino più alto quindi sono prima di uscire e poi la scala di equivalenza gioca a loro sfavore escono più facilmente il secondo gruppo è composto senza distinzione da tutti gli adulti che non sono disabili non sono anziani e non hanno figli a carico o non hanno disabili a carico a prescindere dal fatto oggi alcune di queste persone sono definite difficilmente occupabili perché hanno 55 anni o sono lontane dal mercato del lavoro e nessuno li vuole occupare quindi forse è meglio non dargli meglio fargli fare qualcosa di utile che gli faccia sentire valorizzati piuttosto che di speranze no allora questi secondi sono quelli qui già adesso hanno detto che dopo sette mesi quindi a luglio scade la tagliola e allora a questi qui continueranno a dare cioè potranno i nuovi ingressi prenderlo solo per sette o otto mesi non mi ricordo più e dopodiché che abbiano non abbiano trovato lavoro a prescindere che abbiano fatto tutto quello che gli è stato detto loro fatto tutti i corsi di formazione fatto tutte le cose le attivazioni necessarie eccetera cade la tagliola e prima di chiedere una nuova di poter fare di nuovo domanda passano sei mesi mi sembra di ricordare poi è una bozza quindi tutto può cambiare e dice di che cosa vivranno nel frattempo cioè come puoi dire a un povero a uno che dici che riconosci che è povero che deve aspettare sei mesi per richiedere vuol dire che lo butti nel nero o lo butti nello sfruttamento o lo butti a chiedere la carità lo butti no cioè come puoi pensare no lo lasci al volontariato alla carità alle parrocchie non lo so e quindi boh però vedremo si può anche tentare di articolare un discorso diverso io la vedo durissima perché purtroppo attorno al reddito di cittadinanza si è sviluppato una narrazione così negativa da tantissime parte anche a sinistra ahimè e anche sui media eccetera ogni tanto da un po' di tempo io dico che non vado più a parlarne se sono da sola io contro tutti perché mi sono anche stufata di essere quella cui tirano le palle in fiera come diceva la mia mamma di essere sempre io di fronte a quello che tira fuori l'imbroglione come sono tutte queste trasmissioni scandalistiche però se si creasse un'opinione pubblica meno negativa anche tra di noi meno negativa un po' più cauta nell'esprimere giudizi certo che in un paese in cui c'è tanto lavoro povero anche i lavoratori poveri si stufano di essere lavoratori poveri mentre qualcuno prende il reddito di cittadinanza c'è anche questa cosa qui comunque tra i percettori di reddito di cittadinanza ci sono anche persone che lavorano famiglie in cui c'è una persona che lavora è la dimostrazione del lavoro povero e di loro non si parla non si dice cosa succederà a questi lavorano scusate grazie grazie Chiara Saraceno direi che chiudiamo qui questo nostro incontro che penso abbia dato molto materiale di riflessione a ognuno di noi grazie ancora di essere stati qui grazie a tutti grazie a tutti